Siamo in compagnia di Dieghe, oggi per la tua alba calcio è arrivato un pareggio, Bozzano che ha pareggiato praticamente nei tempi di recupero negli ultimi secondi della sfida, primo tempo chiuso in vantaggio grazie alla tua marcatura sugli sviluppi di un corner, raccontaci un po' questa partita. Oggi l'abbiamo preparata bene, è stata una buona partita da parte nostra, studiata sulle uscite degli avversari. Abbiamo fatto un ottimo primo tempo, siamo riusciti ad andare in vantaggio alla fine, poi nel secondo loro sono usciti ma noi siamo sempre riusciti a tenerli testa e ci dispiace perché alla fine gli hanno regalato un calcio d'angolo che non c'era, sulla quale hanno trovato il gol, però vabbè, purtroppo i tre punti erano fondamentali oggi perché rosichiamo, da una parte siamo contenti che abbiamo fatto una buona prestazione però dall'altra siamo veramente dispiaciuti perché i tre punti oggi erano fondamentali ma è la prima partita del ritorno e ci prepareremo per affrontare tutte le altre e vogliamo far bene, vogliamo tenere questo campionato. Grazie per il suo tempo e poi a lupo per le prossime parti dell'anno.